Per la gestione di questo futuro ci sono varie possibilità, di nuovo nuovi bivi e il PD deve scegliere con chiarezza quale di queste considera giusta e indispensabile e per la quale vorrà combattere come combatteremo con tenacia e senza alcuna subalternità. La prima strada è la più semplice, è quella dell'italietta. Abbiamo appunto tamponato, distribuito, rinfrancato. Ora che il virus è in calo, anche se non dappertutto, possiamo tranquillamente rimetterci a fare come sempre. Insomma, dalla lezione dell'epidemia non vale trarre alcun insegnamento di fondo, né vale riflettere sulla qualità del nostro sviluppo, sui scarsi investimenti della formazione, l'innovazione, la ricerca, la mancanza di un vero impegno collegato anche a premialità per uno sviluppo sostenibile e verde, l'errata considerazione del mezzogiorno solo come un peso, la macchina amministrativa letta e complicata, una fiscalità ingiusta, un'evasione fiscale scandalosa o la sufficienza che c'è troppo spesso nei confronti del nord del Paese che è un immenso patrimonio che ora, proprio ora, va sostenuto e sul quale occorre investire di nuovo. Ecco, se dovesse prevalere questo ragionamento, questa sufficienza, le risorse che abbiamo a disposizione ora sarebbero dilapidate da meccanismi della vecchia Italia, con l'aggiunta che nei prossimi mesi dovremmo affrontare un debito pubblico ancora più pesante, scaricando di nuovo in maniera criminale questo errore sulle spalle delle nuove generazioni. La verità è che questa opzione non coglierebbe l'intensa drammaticità di ciò che è successo. Per questo stiamo alzando e abbiamo detto quello che abbiamo detto. Senza una diversa prospettiva, infatti, inevitabilmente, si rialimenterebbe la rabbia, un confuso stato d'animo di dolore e di spaziamento che ritroverebbe sempre bella e pronta la destra italiana ad interpretarli. Guardate che l'agitarsi inquietanti di fanatici neofascisti si inserisce qui, come se il ritorno al passato potesse anche lontanamente dare una risposta positiva anche a solo uno dei problemi di oggi. Ma questo dovremmo tenerlo sempre presente.